ahahahahahahahahahahahah musica 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 cari amici benvenuti in questa nuova puntata di minecraft con batman oggi siamo qui per provare una nuova mappa che non è veramente una mappa quanto una sottospecie di concept assurdo pazzesco e strabiliante in realtà non sappiamo ancora che cosa sia ma ci aspettiamo grandi cose perché ci è stato detto che è uscita questa nuova mappa dal creatore e quindi siamo pronti per presentarvi color the world by big è proprio big grazie big per averci avvertito subito che questa mappa infatti è uscita solamente ieri quindi grazie davvero è freschissima partiamo subito a capire cos'è perché non ci ha detto niente non ci ha detto neanche il titolo abbiamo dovuto scoprircelo da solo ma alla fine ce l'abbiamo fatta allora switch to color mode usa le pozioni come un pennello per colorare il mondo colorare il mondo e questo invece switch to è la modalità diciamo per cancellare se vuoi cancellare il mondo camminate in giro proviamo praticamente dobbiamo disegnare di un botto carino experience potion andiamo c'è anche un tasso nascosto qui serve per entrare dentro se si blocca non lo so andiamo cos'è un mondo innevato un mondo innevato che è non mi lanciare addosso le pozioni cosa hai fatto ma perchè c'è dell'acqua ma no dai davvero si crea il mondo dove buttiamo ma basta buttarmi giù scusa quindi noi ma che squabola beach che schifo ma dai una birch ho ricreato che schifo ma dai no ma che vergogna basta eh non fate sti scherzi è bellissimo perchè non riesco a di più ah che bello quindi praticamente è nascosto un intero mondo e noi siamo pronti anche gli squid ci sono anche gli squid e noi possiamo immagino che non aspetta 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 se mi faccio seguire da questi creo il mondo guarda se facciamo il seguire guarda guarda no è bellissimo voglio provare mi faccio seguire faccio seguire buttiamo qui le questi ok ce n'è uno che mi segue no seguitemi segui ecco guarda 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 guardate guardate eh no 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 non è la come ha fatto a fare una cosa del genere non lo so il fatto che non funzioni sempre può essere che comunque è una questione di snapshot è una questione di altro però è una questione di bigre anche è fantastico è fantastico guarda lì mi sto facendo seguire mi sto facendo seguire ne vedo anch'io qui che carini ah segui me segui me è bellissimo dai vieni 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 mi sto facendo mi sto facendo mi sto facendo mi sto facendo guardate che no ma perché sono sempre incastrato detto qualcosa vedere crearsi il mondo davanti ai nostri occhi come se lo stessimo pennellando di tanto in tanto è bellissimo comunque la mappa è appena uscita quindi potenzialmente anche eventuali divertitevi quanto volete problemi potrebbero essere derivati anche da qualche piccolo problema vario anche può essere mai birch no le birch non esistono in questo mondo si guarda ho trovato una questo qua si sta scaldando troppo vai no bellissimo è una cosa veramente veramente assurda complimenti per l'idea vedere il creare che sei un genio del male te l'abbiamo già detto ma te lo ripetiamo all'infinito naturalmente se volete scrivere delle cose a bigre fatelo sapere nei commenti dato che li leggerai quindi ogni tipo di sal ogni tipo di saluto anche semplicemente un ciao bigre sarà naturalmente gradito ci farà piacere che possa salutare che possa essere salutato da tutti voi ma naturalmente di scrivergli quello che volete tipo perchè hai messo le birch le birch sono un ottimo passatempo invece ma se lo ah ma tipo se ah se ne sparo più velocemente ah per esempio sparandone più di una si è più sicuri di di colorare il mondo ok ottimo visto ottimo meno male sempre bello provare le cose in diretta con voi io sto sparando alla velocità della luce se una certe volte non è detto che funzioni a meraviglia quando le spavate più di una state tranquilli che funziona meno male ottimo ottimo abbiamo trovato come risolvere più facilmente il problema bello ora si che divertente uuhuuu no basta birch ah 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 basta provo a fare una scritta una scritta una scritta certo una scritta allora guardi evviva le birch no troppe troppe dai tin 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 dai una scrittina una scrittina va bene dai sono caduto in acqua vai è pieno d'acqua questo posto ovviamente no qui vai vai dipingi come vero una scritta fatta così naturalmente provate a darci le vostre idee su come potrebbe essere implementata questa funzione in una per esempio una custom map a me sta venendo in mente qualcosa tipo puzzle dove magari c'è una stanza segreta che magari è appunto è bloccata in una zona come questa più bianca eccetera e voi con il pennello dovete creare qualcosa che apparentemente non si vede per esempio magari va colorata con il colore di qualche combinazione chi lo sa volendo però per esempio potrebbe funzionare qualcosa come eh fai apparire dal nulla dell'acqua dove invece prima pensavi ci fosse soltanto il pavimento e quindi crei una zona nascosta oppure per esempio si creano delle scale al posto di un muro quindi per salire su o sparisce qualcosa sarebbe cioè una cioè le creazioni sono tantissime per esempio appunto puoi creare o magari appunto dato che si può cancellare come adesso andremo a vedere e sarebbe bello ideare magari l'idea di dire ora tu devi creare un po' di percorso e che magari in alcuni punti crea delle cose giuste mentre in altri crea delle cose sbagliate e potete cancellare se andate le cose sbagliate ho scritto L bello ideare lasciate stare quella roba magari la vado anche a cancellare come queste schifose bi guardate sto mondo non puoi cancellare le bi guardate lì wow stupendo anche io voglio andare in creative ah sono in creative ah beh questi c'ho ancora di più di questi scusami che si sono andati in creative ma volevo divertirmi miau sto dipingendo il mondo anch'io voglio dipingere il mondo con te è stupendo è bellissima questa cosa è una cosa semplice come concetto però è geniale e spero che qualcuno bigre stesso possa utilizzare in qualche custom map per esempio qualche puzzle che secondo me proprio viene delle cose molto potrebbero essere delle cose molto divertenti il fatto di dover creare qualcosa che non è ah quante sono sparate insieme e creare qualcosa che non esiste e poterlo cancellare nel caso uno sbaglio cioè per me è una cosa fantastica è un concetto e vedetelo come non una custom map ma come un concetto un concetto un'idea che potrebbe essere sfruttata in modi veramente fantastici un'idea geniale oserei dire ma per caso quel quel beacon è dove dove siamo spawnati si ottima idea di mettere un beacon perché in un posto del genere decisamente ti perdi assolutamente torniamo qui e diamo un'occhiata cosa abbiamo per te ho trovato un'altra firma che abbiamo mezzo distrutto il mondo no lo sono imbirciato un po' tu prova a entrare vieni anche tu dove sono io per favore che non vorrei che stando in due posti diversi sono problemi quindi gentilmente entri che ho delle birce la distrugge no ci ho già spiegato prima che non si può vieni vieni abbiamo fatto tanti di quei disastri che sta iniziando a allargare tutto basta non usiamo più di queste poltiglie ok via color mode vediamo che il mondo si riprenda non lo so poverino e ora vada con la modalità cancella ma perchè dobbiamo cancellare cancelliamo tutto birce vieni qui ah l'ho distrutta non esiste più quella birce schifosa non funziona se ci butti delle potion ora cosa succede adesso con questo qua si cancella no non si funziona niente però posso cancellarsi dove è l'altra birce birce vieni qui no è bellissimo sembra disegnarsi un foglio bianco è bellissimo e devi cancellare quello che non ci piace tu cancelli le birce veramente fantastico ecco un'altra ecco un'altra ahahahahah ma è una cosa veramente geniale ci tenevamo naturalmente a provare subito la mappa di big appena uscita e ringraziamo di nuovo big per avercela segnalata e anche alcuni di voi che ce l'hanno segnalata quindi grazie a tutti ma era in dimension jumper in dimension è una nuova versione di dimension jumper con questo è big ti aveva suggerito un'idea ma poveri squid le abbiamo uccide aspetta sta ferma sta ferma sta ferma che mio viniel aspetta sta ferma sta ferma sto vedendo se lo scritto lo fa scritta bene la scritta ok non mi cancellare l eh ma che vuoi che ti cancelli non mi cancellare no 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 mi sto mi sto mi sto mi sto dai quando squid squid mi dispiace da no non è vero non tanto poi alla fine mi frega niente a te dei squid vediamo l dai avevo scritto decente dai decente si può fare di meglio ma mi sfidiamo a fare una scritta fatta bene con questo sistema bellissimo naturalmente sarebbe carino anche se esistesse una versione del tipo anche se fosse invece di mappa da da ricostruire magari non so un villaggio ti sto cancellando la l un villaggio un qualcosa che quindi uno prima lo vede tutto bianco e non sa cosa aspettarsi e poi alla fine viene fuori anche una pixel art cioè chissà è vero una pixel art è che tu piano piano che ci cammini sopra e inizia a crearsi un complete the monument fantastico le idee sono infinite diteci le vostre perché è fantastico dai ti ho rifatto una l piccinina no mi sono chiuso no ah sono con lo squid siamo io e te no squid il mio unico amico giorno 45 sono ancora chiuso qui sotto il mio unico amico squid è diventato cibo per le mie orecchie non so più come uscire ah ah meno male bastava scavarmi sopra la testa ma è io che ti stavo venendo a liberare ma non ci posso credere guarda qua guarda che cimitero di squid che abbiamo fatto si veramente va bene comunque eh il mondo abbiamo completamente distrutto troppa roba tu ormai ah ok non usate tutti questi experience battle tutta in si rasta grazie a tutti per essere stati con noi in questa folle puntata e con la nuovissima mappa colored 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 world vi consigliamo naturalmente se volete di provarla voi stessi vi lasciamo tutto il link in descrizione ah guardami cosa eh ma non è detto che riesco ho detto non ti vedo più da 1903 ma uffa ecco ti allora grazie di avermi stati con questa puntata salutate big se vi va nei commenti fate sapere come vedreste bene questa mappa eeeh alla prossima con 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 l'eterno ha 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 mi è venuto mamma mia ma che cosa avevo basta grazie a tutti alla prossima con l'eterno ciao 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 sono sbronzo di esperienza ti avec l'eterno